Buongiorno a tutti amici, eccoci ritrovati qui con un nuovo video di Fortnite Ciao, buonanotte! Non di Fortnite, ma volevo parlarvi brevemente, proprio molto sintetico del film Il Re Leone Io adoro Il Re Leone, è fantastico è uno dei miei cartoni preferiti in assoluto mi piace ancora adesso e sono andata a vedere il film e ecco qua il segnalibro che mi hanno rilasciato al Victoria bellissimo bellissimo il segnalibro e bellissimo il film è stato spettacolare, spettacolare molto, 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 ma molto bello mi piace un sacco e niente, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video so che è stato corto, ma vi volevo dire che mi è piaciuto un sacco, un sacco, un sacco, un sacco Ciao a tutti!